Un grande espetacolo a 23 ore, prepara il vostro uvile buon servitori. Vedrete le mani del rabo pagliaccio, e come si vale, diga se non me la fio, vedrete il sogno che va la carcassa e quale matassa di intrigarsi loro. Venite e guardatevi, signore e signore, a 23 ore, e guardatevi, signore e signore, a 24 ore, a venti tre ore a venti tre ore